nulla fosse. C'è bisogno in una situazione così grave, così critica, di continuare un percorso che è iniziato con Monti e che non può finire nel 2013, ma deve sicuramente almeno per quanto riguarda le politiche di rigore, di attenzione al debito pubblico, deve essere sicuramente un impegno anche delle forze politiche, non può essere soltanto demandato ai tecnici. Qui la politica si deve far carico di questi nuovi problemi e ci deve essere una politica più responsabile, un mondo politico più responsabile che non affidi soltanto ai tecnici la soluzione di questi problemi, ma che se ne faccia carico in prima persona con un mandato elettorale molto forte. E il suo partito da questo punto di vista ritiene che abbia le idee chiare? Perché poi uno legge le posizioni di Fassina, che è responsabile delle politiche economiche, e legge anche il documento di quei 15 esponenti, tra cui Chino naturalmente, ma non solo, che evocano proprio lo spettro dell'azione dell'agenda del governo Monti e immediatamente pensa, forse anche il PD le idee ce l'ha abbastanza confuse? Più che confuse è un partito che sicuramente al suo interno ha diverse posizioni e ci sono sicuramente, venerdì lo vedremo nell'Assemblea nazionale, verranno anche esplicitate e quindi sicuramente in un partito democratico queste decisioni dovranno essere prese all'interno degli organismi dirigenti e credo che sicuramente ci saranno anche le condizioni per fare delle scelte più attente alla situazione che abbiamo davanti. Le mostro diverse prime pagine perché abbiamo un po' diviso gli argomenti in due, da una parte Monti e dall'altra, scusate ma è sempre così, la vera notizia del giorno è quella relativa al ritorno di Silvio Berlusconi, ieri le anticipazioni del Corriere della Sera, poi le conferme che via via hanno trovato strade, allora apriamo con il fatto quotidiano a cui non sembra vero, lo dico ovviamente con un pizzico di ironia, che Berlusconi torni in campo, quantomeno la titolazione diventa più agile, più snella, la comica finale torna Berlusconi, non bastavano la crisi economica, Italia, pensioni e sanità allo spredo, ora riscende in campo l'artefice del disastro, sottratto alle cene eleganti per cercare di tenere in vita il PDL, quando la storia si ripete diventa farsa, gliel'avessero detto a Indro Montanelli, maestro di Marco Travaglio, che avrebbero citato Marx con questa duplice immagine, Berlusconi com'era e Berlusconi com'è oggi, come oggi poi è da vedere perché tutti scrivono e lo leggeremo che è particolarmente dimagrito e che non intende nemmeno andare in vacanza per prepararsi alla sfida elettorale, Libero esulta invece con toni completamente diversi, assolutamente enfatici direi e ci propone un'immagine, una caricatura di Silvio Berlusconi che dà un calcio sostanzialmente al tandem Monti-Merkel, cucù, rieccolo, non ci sono eredi e Berlusconi annuncia che si candiderà Premier per la sesta volta per salvare il PDL, i sondaggi sono con lui e Super Mario subito si nervosisce, in Europa fu umiliato, il Cavaliere vincerà pure se perde le elezioni e il Colle lavora contro Bersani, questo è il titolo del pezzo di Fausto Carioti, poi ancora continuando a scorrere le varie reazioni nel centrodestra che naturalmente è particolarmente scosso, direi in positivo dalla scelta di Berlusconi, c'è il giornale diretto da Alessandro Sallusti che va ad analizzare le ragioni più che soffermarsi sui toni enfatici di Libero e titola perché torna Berlusconi di nuovo in campo, i sondaggi convincono, l'ex Premier guiderà il centrodestra in ticket con Alfano e guasta la festa a Casini e Bersani, quanto vale il PDL, le tre ipotesi con l'immagine di Berlusconi, questo è uno schema che risulta particolarmente efficace, PDL con Angelino Alfano leader del partito e Silvio Berlusconi fuori dalla politica secondo i sondaggi interni starebbe sull'8-12%, PDL con Angelino Alfano candidato Premier e Silvio Berlusconi padre nobile presidente del partito 17-21%, il ticket Berlusconi Alfano in campo con un progetto politico che richiami le origini di Forza Italia e una squadra di giovani dirigenti in un partito completamente rinnovato nelle persone si attesterebbe sul 28%, questo è un sondaggio insomma che nelle ultime ore era già circolato abbondantemente, Liberal con un bel po' di sarcasmo, il quotidiano online di Adornato titola largo al nuovo, Berlusconi Alfano annuncia, il candidato Premier sarà lui e io gli starò dietro, l'ironia di Casini c'è qualcosa di antico, sono contento che l'ex Premier non abbia perso la sua verve, né primarie né delfini, il cavaliere da vent'anni sulla scena anche stavolta farà tutto da solo, nel PDL tutti i basiti, questo è un elemento che gli altri non sottolineano e sbagliano e ovviamente Zitti ma Bertolini e Pecorella trovano il coraggio di contestarlo, poi c'è il secolo d'Italia che apre con un titolo quasi catartico, Nemesi 2013, Berlusconi sarà ancora in campo, questa è l'apertura di taglio alto che sceglie il quotidiano diretto da De Angelis, Sarkozy, la Merkel, Monti e Napolitano no, Alfano in tanti gli stanno chiedendo di candidarsi e io sono tra questi, se deciderà di farlo sarò e saremo sempre al suo fianco. Matteoli, i nostri avversari hanno avuto subito una reazione nervosa che fa trasparire preoccupazione, chiudiamo questo sguardo con l'unica voce un po' più critica rispetto alle altre e non è assolutamente una novità, insomma è quella del tempo, il quotidiano romano di Piazza Colonna che sceglie un titolo diverso, Berlusconi scende sul campo minato, candidato nel 2013, cosa rischia il Cavaliere, PM di nuova in azione, PD è rimotivato, niente riforma elettorale e Casini con Di Pietro e Vendola, punta al Monti Bis, lo dica, lascio a lei Lo Befaro il commento alla notizia del giorno. Notizia? A me sembra, non dico un incubo, ma sicuramente una situazione completamente fuori dal contesto, io non so se questa notizia sarà una notizia che poi avrà un seguito perché ne abbiamo in queste settimane sentito tantissimi di annunci anche da parte di Berlusconi, da quando voleva fare il ministro dell'economia con Alfano Premier o altre amenità del genere. Credo che comunque se anche fosse vera questa intenzione di Berlusconi, una cosa è certa, lui potrà anche ricandidarsi ma troverà un paese completamente cambiato rispetto alla situazione di qualche mese fa. È un paese non più disposto a vivere in un mondo dei sogni, ormai ha toccato con mano la realtà, la cruda realtà di quello che sta avvenendo nelle famiglie, nelle imprese, nelle situazioni quotidiane, di difficoltà quotidiana e credo che gli italiani ormai sono abbastanza vaccinati di fronte a quel mondo che era stato presentato, illusorio che era stato presentato negli anni passati e che ha dato sicuramente degli effetti negativi. Non sono d'accordo sull'analisi del fatto che l'artefice di tutta questa crisi sia esclusivamente Berlusconi, questa è una crisi che risale purtroppo a scelte anche degli anni Ottanta in un paese che non si è voluto rinnovare, che non è stato capace di mettersi al passo con la modernità, con l'innovazione, è rimasto un paese invecchiato che si è chiuso in se stesso, quindi da questo punto di vista forse anche a sinistra il ritorno di Berlusconi potrebbe diventare un alibi per mascherare ancora di più le difficoltà che abbiamo anche nel nostro mondo a cambiare. Allora, velocemente, vediamo qualche editoriale, scrivono tutti oggi di Berlusconi, non può essere altrimenti, naturalmente, noblesse oblige, partiamo con Travaglio che l'ha attaccato costantemente nel corso del tempo attraverso un lavoro di inchiesta peraltro molto approfondita e dunque Marco Travaglio sulla prima del fatto sceglie sempre un titolo provocatorio, vice direttore del fatto quotidiano, vale a dire, su Silviu. Non occorreva grande perspicacia per sapere con certezza, scrive Travaglio, che il Caimano sarebbe tornato anche ufficialmente a capo del PDL. Bastava conoscere un po' la sua indole, ma soprattutto guardare la faccia di Alfano e leggere le firme dei cervelloni che ne magnificavano le doti di leader, l'irresistibile ascesa, lo smarcamento da Berlusconi, il programma, anzi l'agenda, per un nuovo centrodestra moderno, liberale, europeo, moderato, finalmente scevro da conflitti di interessi e vaticinavano per il cavaliere un ruolo da padre nobile. Era chiaro a tutti, forché ad Alfano e ai laudatores di corte, che mai, per quanto acciaccato e bollito, il Caimano avrebbe consentito che quella nullità ambulante dilapidasse quel poco che resta del suo bottino elettorale, che al momento buono sarebbe tornato in prima linea. Ora il momento buono è arrivato, non certo per i finti sondaggi che darebbero il PDL sotto la sua guida al 30%. Nel paese dell'amnesia gli occorreva qualche mese per far dimenticare i disastri degli ultimi 18 anni e il nome del responsabile numero uno. Che ne pensa? Continuiamo con questa politica fatta e legata ai sondaggi che lasciano il tempo che trovano. Vorrei capire meglio quello che accade nel Paese, perché questi sondaggi, e lo vedo anche su quello che emerge sui sondaggi romani, quando si parla del sindaco. Perché rimane stupito quando vede che alle manno dell'altro sondaggio parlavano dell'ultimo, stava ancora in testa? Rimango stupito perché parlo con la gente, sto sugli autobus, vedo e sento i commenti, leggo su internet i commenti dei tanti che commentano le cose che accadono in città. Mi sembrano completamente diversi rispetto ai sondaggi che vengono pubblicati in maniera spesso anche molto strumentale. Non vedo l'ora che arriva il momento vero, perché qui siamo ancora nella finta politica fatta appunto soltanto di sondaggi che si combattono tra di loro e cercano di orientare l'opinione pubblica che invece è smarrita di fronte a una politica che ormai lascia il tempo che trova, perché è una politica fatta di nulla, di politici che non hanno più rapporti con i cittadini. Mettiamo a confronto tre firme più o meno legate al Premier e cerchiamo di capire come il popolo del centrodestra stia vivendo questo momento. Iniziamo da Sallusti sul giornale che scrive nel suo fondo dedicato proprio a Berlusconi, non piace a Bocchino, a Rossi Bindi, a Di Pietro e più in generale al variegato circo della sinistra, il che significa che è una buona idea. Parliamo della ricandidatura Premier di Silvio Berlusconi a capo di una rinnovata formazione di centrodestra. I nuovi partigiani repubblicani, nel senso di fan della Repubblica, sono spiazzati e nel panico. La festa della liberazione, celebrata il 12 novembre 2011, giorno delle dimissioni di Berlusconi, non ha portato bene, non solo non sono saliti loro al potere. Non solo hanno dovuto fare da Zerbino a un professore bocconiano non certo di sinistra e che per di più odia la concertazione sindacale non. Ora rischiano di ritrovarsi al punto di partenza, cioè per loro a un punto morto, nel senso che è morta la speranza di essersi liberati definitivamente dell'unico vero ostacolo ai loro progetti di guidare l'Italia, con chi che sia, Monti, Vendola, Casini di Pietro, ma guidare indisturbati. Raccontano, scrive ancora Sallusti, che Berlusconi si sia messo a dieta, abbia sfoltito la corte e annullato le vacanze. Vuole essere in forma perché quella che l'aspetta è un'impresa riuscita una volta sola nella storia, resuscitare, possibilmente per più di tre giorni. Per la verità noi non l'abbiamo mai visto morto e non abbiamo mai avuto dubbi sul suo ritorno e non per simpatia o dovere. Insomma, qui Sallusti forse non è molto sincero e perché non siamo abbastanza intelligenti e colti da immaginare oggi un centro-destra senza Berlusconi. O ce la fa lui o addio al sogno di un paese liberale e tra il niente e il sogno meglio il secondo. Sul foglio di oggi poi scrive con il simbolo dell'elefantino che insomma richiama chiaramente al direttore Giuliano Ferrara, da sempre molto vicino a Berlusconi, salvo qualche recente frizione, il pupo ha molta energia. Berlusconi come un ragazzo vuole correre per la quarta volta e Ferrara lancia una sorta di appello con un ragionamento politico piuttosto articolato. Dovesse fare il masaniello, Berlusconi, sarebbe la ripetizione di una vecchia storia con esiti possibili di farsa. Dovesse invece raccogliere l'offerta civile e culturale che si è costruito con le sue mani, dando il via al governo Monti e rinunciando a chiedere le elezioni nel novembre scorso, la faccenda si farebbe parecchio interessante. Nella drammaturgia dello spauracchio, essenza dell'anti-berlusconismo da commedia all'italiana, non è previsto il ruolo di una persona seria che rivendica di non aver rovinato il paese, come dicono i temerari sacerdoti dello spread che non cala. Di avere invece contribuito a dare una mano in un momento difficile liberando la scena di sé e contemporaneamente dei suoi nemici ideologici. Non è previsto un megalomane o un mitomane che mostra un forte senso della realtà, che promuove un listone della responsabilità nazionale, che gioca a staffetta con tecnocrati e professori invisi ai manettari e trattati con nevrosi bipolare dal gruppo espresso di Carlo De Benedetti. Non è previsto un tizio capace di tornare alle origini, di fare discorsi di economia che si capiscono anche al mercato, di sorridere delle critiche anche le più basse e micragnose, con mitezza e mi consenta di corrispondere ai difetti notori del paese alle vongole, ma con un'area da businessman che si è fatto da solo e alla fine ha capito che anche i poteri forti hanno un'anima, che la politica non è una scienza esatta ma nemmeno una prassi priva di un suo ordine e significato. Nel copione della crisi e dell'emergenza, chiude Ferrara, non è previsto un ritorno a sorpresa, non vendicativo, non gridato, affabile e costruttivo. Ecco, se la parte è quella non prevista di cui abbiamo tutti bisogno, bentornato a un vecchio amico. Chiudiamo con Secchi e poi l'ascolto lo Befaro perché il direttore del Tempo ha una linea diversa che forse rispecchia l'animo degli scontenti nel mondo del centrodestra, soltanto pochissime righe in chiusura del suo articolo. Resta la domanda chiave. Berlusconi si candida per fare cosa? Vuole tornare in pista nel 2013 pensando di giocare la partita del governo di larghe intese con Monti che fa il bis? Vuole contaminare il montismo con una politica pragmatica e seria come quella proposta da Giuliano Ferrara, forse aveva letto pochi minuti prima di scrivere il fondo di Ferrara, Secchi. O con le proteste fiscali, flop di Daniela Santanchè, e la classe dirigente del PDL che fa? Sta a guardare cosa decide del capo, mette qualche idea sul tavolo della politica? Senza risposte chiare il PDL nel 2013 rischia di confinarsi nell'ombra di un'opposizione senza idee, confusa e senza numeri. Chi ha ragione? Sicuramente il tempo. Credo che da questo punto di vista nei loro ambienti sono abbastanza consapevoli che questo ritorno, se è un ritorno alla Masaniello, come si diceva prima, è un ritorno catastrofico per il Paese ma anche per tutti coloro che hanno affidato le loro sorti personali e politiche nelle mani di Berlusconi. Il Paese vuole cambiare pagina, vuole svoltare radicalmente rispetto al passato, lo fa con un po' di difficoltà in alcuni settori dove ci sono resistenze fortissime al cambiamento ma il cambiamento è necessario per superare la crisi. Credo che questo tipo di atteggiamento, questo ritorno di un personaggio che non è capace di fare cose utili al Paese in questo momento ma che avrebbe sicuramente soltanto la funzione di crearsi un gruppetto in Parlamento per i suoi interessi personali, di questo non ne abbiamo bisogno. Quindi quando Sallusti poi scrive che in qualche maniera chi è scontento manifesta, chi è scontento insomma, chi attacca manifesta la sua preoccupazione non è d'accordo? Con riferimento a Rosi Bindi, a Di Pietro? Ma diciamo che chi attacca senza fare questo tipo di analisi è perché forse sta cercando e pensa di aver risolto tutti i problemi facendo un quadro politico a tavolino che forse non sarà nella realtà. In questo momento il quadro è ancora abbastanza confuso, siamo davanti a una situazione di legge elettorale che ancora non definisce nemmeno il quadro e il punto di riferimento. Senza la legge elettorale sarà difficile pure stabilire quali sono le alleanze e il tipo di schieramento che si deve andare a comporre. Quindi ancora troppo presto per capire quali saranno gli schieramenti. Chiudiamo con Europa, non per leggere il titolo d'apertura, Berlusconi ci riprova, Monti lo inchioda al fallimento, ma per dare un'occhiata a poche righe tratte dall'inizio dell'intervista a Matteo Renzi che dice Anche quando sembra morto, riferendosi a Berlusconi, tira fuori un'arma nascosta. Però mi pare che il Paese gli abbia definitivamente voltato le spalle. Chi mi ha deluso è l'atteggiamento di Alfano, che viene definito supino, una nuova classe dirigente, deve dire grazie, tocca a noi. Cosa vuole fare lei nel PD? Chiede Mario Lavia. Quando si candida? Uno di noi si candiderà un attimo dopo aver chiare le regole delle primarie. Si faranno sì ancora il giornalista di Europa. Bersani ha detto di sì. Se non sono il 14 ottobre, saranno il 14 novembre. Lo stesso, purché siano vere e aperte. Senza gli alibi di D'Alema e Marini. Lei lo voterebbe Renzi? Io voterei se ci fossero le primarie. Poi più che le persone sceglierei i programmi, le cose che vengono proposte. Adesso questo gioco, scegliere uno, scegliere l'altro, non ha senso. Perché vorrei, prima di tutto, e spingo perché ci siano delle primarie vere e aperte e che siano delle primarie che diano la possibilità di scegliere. E ci saranno vere e aperte? Aspettiamo venerdì, lo capiremo meglio venerdì all'Assemblea Nazionale. Però mi sembra preoccupato. Ci sono molte resistenze, credo, dentro il Partito Democratico. Non è un percorso così lineare. E quando dice primarie vere e aperte, per chiudere, in 30 secondi, per farlo capire anche ai telespettatori? Ma che ci sia la possibilità a tutti coloro che vorranno partecipare, anche se non iscritti al PD, ma che sono vicini al Partito, che sono elettori. D'altra parte gli elettori sono molti di più degli iscritti. Lasciare questa scelta soltanto agli iscritti mi sembra molto limitante. Senz'altro, staremo a vedere, questo è un dibattito ormai, come dire, antico, nonostante poi tutto sommato le primarie siano recenti. Speriamo che si possano fare anche per il Sindaco e il Presidente dei Municipi, perché questa è un'altra battaglia da fare a Roma. Le primarie assolutamente dovranno essere fatte a Roma, non solo per il Sindaco, ma anche per il Presidente dei Municipi. Però lì lo possiamo dire, vota Zingaretti? Sì, credo che questo, anche lì, però bisognerà vedere cosa propone. La mia preoccupazione è che si voglia, anche nel caso di Roma, pensare e credere che Alemanno sia stata soltanto una parentesi e si torna al passato. Se Zingaretti saprà sganciarsi dalle situazioni del passato e aprirà una stagione nuova, sicuramente sarà il mio candidato. Se darà invece la sensazione, nella sostanza, di essere la continuazione di un vecchio modo di amministrare Roma, che negli ultimi anni del governo Veltroni non ha dato dei buoni risultati, altrimenti non avremmo avuto Alemanno, sicuramente non sarà il mio candidato. Beh, questa è una notizia. Chiudiamo con questa notizia. Grazie a Giuseppe Lobefaro, consigliere provinciale del PD. Ci ritroveremo, immagino, dopo l'estate. Grazie a tutti voi per l'attenzione e la pazienza. Torniamo domani, stavolta appuntamento alle 23.15, sempre con un esponente del Partito Democratico e appuntamento con i nostri titoli di coda. Arrivederci.